Amici della compagnia del baffo più bello del nord, benvenuti in un nuovo episodio della carriera allenatore con l'FK Lufoten Terzo episodio, se vi siete persi i primi due mi raccomando andatele a recuperare Abbiamo fatto calcio mercato, vi ho spiegato il progetto e ho letto i vostri commenti raga Grazie, grazie, grazie per tutti i consigli Ieri sera a cena mi sono messo con la Giulia, la mia compagna, gli ho detto Senti ma se mi facessi crescere il baffo, visto che sto facendo una carriera nord No, no perché mi dà fastidio quando mi baci Porca, ragazzi io non lo so se ce la fa Io vorrei entro alla fine di questa carriera avere un baffo così ma non so se ce la faccio Iscriverla in direct purtroppo non conta perché ha già ricevuto qualche messaggio della serie Lascia crescere il baffo a mento Siete folli, siete folli Allora cosa andiamo a fare quest'oggi raga Allora, calendario, abbiamo 3-4 pari, dipende Abbiamo Lilstrom, il Molde, l'Amcam, forse anche il Bran E l'obiettivo è quello di, allora non prendere più di 7 gol contro il Molde E quello di segnare, l'obiettivo di oggi è quello di segnare Non tanto vincere ma di segnare, vediamo cosa succederà Poi ha tenuto banco la questione Nielsen nello scorso episodio Mi avete detto di trasformarlo in trequartista, lo facciamo Io mi fido di voi, io mi fido di voi Nielsen, non mi deludere, 4 settimane Dovesse fare un buon upgrade sarebbe anche abbastanza pronto per la prima squadra Come per esempio il suo compagno Hansen L'abbiamo buttato dentro nello scorso episodio Portiere, 16 anni, 58 di overall Me lo accollo, 1,90, 77 Veramente not bad Poi, Egheli Effettivamente mi è destro Però è un terzino di sinistra E fa ridere perché adesso gli ho spostato Il piano di crescita Laterale invertito Che solitamente per un terzino sinistro che è mancino Dovrebbe aumentare il piede debole Ovvero il destro Invece Egheli è destro, il fotte il sistema Gli aumenta comunque il piede debole Ma il sinistro, cioè cose, cose folli Però adesso lo alleniamo in questo fondamentale Effettivamente così aumenta il sinistro Può fare anche il mediano Effettivamente Egheli Non ha molti problemi Ma non puoi praticamente superare la zona del dio Yer Todal Perché Yer Todal è chiaramente il figlio di un dio Molto più in alto di Odino, credo Perché guardate che un metro e 93, 17 anni Questo se lo tocchi Non è che prendi la scossa Proprio rimane così Non sai Lillestrom Tecnicamente dovrebbe essere anche la squadra di Eskiled Non so se si è trasferato Trasferito Io mi cuffieggio le orecchie Ma soprattutto ragazzi La titolare Questa sarebbe la titolare Dobbiamo fare gli imprevisti E la cosa bella signori È che siamo finalmente Alla prima in casa A Ennings Weir Quindi l'obiettivo Oltre a fare qualche gollettino È cercare di non tirare la palla Troppo Troppo in mare Perché se no è veramente un casino Già non abbiamo i soldi per fare il calcio mercato E più se dobbiamo pure comprare i palloni Imprevisti per partita Avvia L'estrazione Oh Cristo santo Imprevisto della community Iniziamo Alla prima in casa Ennings Weir La miglior difesa è l'attacco Schiera i due terzini al posto delle ali titolari Se non ci sono le ali nel modulo Schiera un centrale al posto della punta Benissimo Non le ali al posto dei terzini Ok Benissimo Fantastico Partiamo alla grande Una cosa interessante è che nel calcio nordico Ci sono anche tanti giocatori africani Devo cercare di capire qual è la nazione africana Con più presenza al nord Perché ce ne sono veramente tante E poi la inserirò nelle nazioni da sbloccare Perché effettivamente puntare anche su qualche nazione africana Potrebbe aver senso Una su tutti non so Il nordgelland Che punta chiaramente sui giocatori ganesi E non solo Allora benissimo Egeri lo spostiamo alla di sinistra Holst Larsen lo spostiamo alla di destra Lo sveglione Breivik lo mettiamo a titolare qui Sulla destra invece ci mettiamo Novak tu non puoi giocare Ma tu Novak cosa minchia ci fai ancora qua Ma perché mi parete una canzone su spotify Ma raga Brook Green Suite English Sinfonia Ma io ho tantissima paura Ma cos'è il nostro inno È diventato Va bene signori È diventato il nostro inno Di entrata in campo Me lo devo screenshottare Brook Green Suite Via La facciamo nostra Ma perché mi è parlata una canzone Scusate ma io dovevo cacciare Semplicemente quel cristiano Di Novak Novak Non ti nascondere Non mi sono dimenticato di te Addios Ma mi sono spaventato fortissimo Pensavo fosse una musica del gioco Ma forca miseria Quindi dicevamo Egeri e Holst Larsen Lì sulla sinistra e sulla destra Lo sveglione Titolare E a questo punto Sulla destra Ma Ma mettiamoci Burlo Dramma In sovrapposizione Dai Burlo Dramma Terzino di destra Direi che possiamo andare in campo così signori Sempre sul pezzo E forza Lofoten Via Dentro Guarda che bello spogliatoio Guarda che bel baffo Guarda che belli È tutto Tutti belli Tutti belli Tutti belli Però l'inno Inno Inno per l'entrata in campo Io sono ancora Sono ancora abbastanza scioccato Vediamo se effettivamente La miglior difesa Sarà L'atta La La Il miglior attacco La difesa Ma che era Ostra La madosca C'è qui in Norvegia ragazzi Si danno dei legni Si danno Si danno delle martellate Questo è uno schema È studiato Studiato nelle generazioni Ierto dal Ierto Ca miseria Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ierto Ierto Adal È buonissimo Oh tira Ce l'abbiamo Non tirava Holst Larsen Ci porta in vantaggio Non tirava Ma la rovesciata di Ierto Dal È stata Qua Sembrava Sembrava vedere Inrovesciata Una giraffa Il dio giraffa Signori Il dio giraffa Benissimo Abbiamo Nubi E abbiamo Ierto Dal Che è il dio giraffa Guarda che roba Sembrava Krauts Sembrava Ma in tutto questo Larsen L'ha buttata Dentro Holst Larsen Fabian Siamo avanti Enixwire esplode Non so se ci arrivo alla fine Stringiamoci nella compagnia del baffo Raga Perché oggi No 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 Mamma mia Christensen Bravissimo Potrebbero esserci i primi tre punti storici Mamma mia Che palla incredibile Christensen 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 Gallo ci sei? Ma vai a scoreggiare nella neve Guarda lui è buona Il gallo Ed è stata grande parata Ma era fuori gioco Occhio qua Attacca Lillestrom Osen Christensen Comunque Ma scusatemi Sarà alto Due metri e mezzo Christensen Un metro e novantanove Ma si vedono tutti Si vedono tutti Quei metri e novantanove Porca miseria I ghelli Sei più rincoglionito di Di Breivik No Bravo Ansen Va bene Ierto Ancora Ierto Mollarmi Ierto Ansen Incredibile Alla sua sinistra Si soffre Ma la compagnia del baffo non molla Si stringe In un grande abbraccio Caldo No 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 Mamma mia Damma Va bene Va bene Gallo Oh gallo Eccolo Eccolo Finalmente Il 2 a 0 Si sblocca il gallo Ragazzi Si sblocca il gallo Forse questa Non so se Tutto l'episodio scorso Ho aspettato per fare Ste esultanza Ce la siamo portati a casa Ce la siamo portati C'è la L'esultanza Nulla partita Qui può succedere di tutto No 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 Kristensen No Ma arriva l'ossigeno L'ha in alto Mannaggia i sandali Oh una volta che la voglio buttare fuori La sparo in faccia Al mio avversario Io non capisco Veramente Che misti Guarda che roba Guarda Kristensen È talmente in alto Che secondo me Non riesce a respirare Da quanto era refatta l'aria Niente L'abbiamo Gliel'abbiamo fatta riaprire noi Era una partita così perfetta No 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 Mamma mia Kristensen Questa è una grande chiusura Devo togliere Bullo Cosa hai fischiato? Cosa è successo? Eccoci qua Ci tocca il ginocchio Ci tocca Sarebbe finita comunque Sarebbe finita E dai A sta palla Tacci vostri Ma fischia Fischia E dai Bene Primo tempo In quel di Enningswire Che non ha quei palazzi Che Vi lo posso giurare Non ci sono quei palazzi Allora Drama Con un bel meno 10 Sulle spalle Direi che possiamo evitare Di farlo giocare Hansen Stiamo un pochettino Più stretti Oggi ci stringiamo Ci stringiamo molto Perché se no Ci prendono troppo E abbassiamoci un attimo Per quanto riguarda L'imprevisto della community Ragazzi Ne parliamo sotto nei commenti Direi che per il momento Restiamo così Cioè nel senso Io farei un po' come Al solito Che verso il settantesimo Magari possiamo cambiare le cose Invece Olst Larsen Benissimo Secondo me C'è tipo la sua posizione Questa Mettila bene Ma me la crossi anche benissimo Con la cresta Olsen Con la cresta Mi sei passato Mi sei passato Olsen Tira Ma perché non tirate Quando ve lo dico Mannaggia Mamma grandissimo Ierto Riznes Mi sei rincoglionito Di Breivik Riznes Sveglia Radosavljevic Proprio lui Breivik è diventato Tipo un'unità Di misura Per Per misurare La rincoglionitaggine Un Breivik Vuol dire Che sei rincoglionito Parecchio Ierto dove sei Ho bisogno della tua No 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 Sarebbe veramente Mamma Hansen Grande varata Ierto Ma che copertura sulle fasce Intercettazione aggressive Dai 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 Più Più dare una mano Ierto Steccare bolli Oppela Non ce credo Non è possibile È insteccabile No 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 Mamma Hansen Sarebbe finita Sarebbe finita Ma io lo voglio battere Hansen Non ha neanche saltato È finita È finita I primi tre punti Della FK Lofoten Sono storici Una partita Veramente Da nordici Questa Ci siamo difesi Con le unghie Con i denti Abbiamo avuto Anche un bel bucio Di culo Un gran portiere Molto molto bene Adesso tutti davanti Ai tifosi Tutti insieme Ragazzi Sì Andiamo Andiamo Sì Come gli islandesi Holst Larsen Alla fine La dala Ha spaccato Ha spaccato Molto bene anche il gallo Super soddisfatto Ragazzi Intervista post partita Alziamo sto morale È stato un match Difficile per voi Direi di sì No No Perché è negativa Direi Perché è negativa Sapevamo che non sarebbe stata Una passeggiata Con calma Con calma Cos'è cambiato Dall'ultima partita Di buco di culo La squadra FK Palofoten Non poteva perdere Ancora Allora Jorgensen Mi ha chiesto di giocare In questa partita Contro il molde Devo essere sincero Tra l'altro I tre centrocampisti Del molde Sono uguali Identici Sono la stessa persona Contro questo molde Io oggi avevo pensato Di metterlo Jorgensen Perché forse Mi dà un pochettino Più di Di esperienza Ancense accomoda È già cresciuto Di un punto over L'Ancense Facciamo giocare Jorgensen Tra l'altro Abbiamo la terza maglietta Molto molto bene Eravamo rimasti qui Con l'imprevisto Della community Benissimo Il dio del tuono Della nostra parte Non possiamo deluderlo E allora Visto che Thor È dalla nostra parte Andiamo in campo Siamo in casa del molde Una trasferta durissima E si va ragazzi Si va Ce la giochiamo Sempre sul pezzo E forza Lofoten Ai miei figli Racconterò la storia Degli Ertodal Ma porco Fa cagare Ierto Perché Ma dove mi sentite Da dove mi sentite Parlate Ditemi da dove mi sentite Dove avete messo i microfoni Porca trottola Che stecca Che gli ha dato Ierto Ancora Ierto Ma mi devi dare un gioco Mi devi dare Mamma Iori Che sei bravissimo Ricordiamoci Oggi Se prendiamo Un meno di sette gol È Un 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 successone Un sulcessone Bravo Riznes Dammi sta palla Niente No 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 Dammi sta palla Eccolo Ierto Vai 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 Sgambettalo Ma porco Ma porco Schifo Jorgensen Non ti faccio più giocare Jorgensen Guardala bene Sta porta Perché L'unica Che vedrai Sarà quello De Casa tua Dopo Annaggia La miseria Ma come si fa A prendere un gol Del genere Sul primo palo Jorgensen Ho capito che Hai iniziato a fare Il portiere L'altro giorno Ti avevo preso Da un barcone Stavi pescando Eh ma noi 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 giochiamo bene Ennings Vai ragazzi Non c'è niente da fare Cosa fischi Che ho il pallone io Ma cosa Ma cosa Ma che Ma noi non ho fatto niente Bravo Thor Bravi Non è uscita Ma non è uscita Ma la smetta Si tolga la sciarpetta Ma si tolga la sciarpetta Del molde Quanto devi durare Il vantaggio Per loro Mannaggia vostra Mannaggia Molde League Molde League Molde Molde League Allora io oggi Mi faccio cacciare fuori tutti Non mi interessa A Jorgensen A Jorgensen Ci siamo eh Christmas Non c'è Greto Non c'è Greto Che te sei magnato Thor Eh vogliamo fare un discorsino Non ha girato questo Questo esterno di destra Poteva essere davvero Una grande occasione Per parezzarla Bravik Come Bravik Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è fai Di là niente 2 a 0 Casa Eh andiamo noi a casa Mi sa Mi ha sconvolto Il Bravik Mi ha sconvolto Il Bravik Che da noi Era stanchissimo Sta giocando Per il molde Incoglionito E pure traditore Bene Eh ma Oggi Oggi purtroppo Era Era abbastanza Scritta Sta cosa Vierto Bel tiro Vierto Spero sia stato deviato Bello 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 Bomba al destro Vierto Cioè Gilly Ma che cazzarola Stai facendo Ma Ma dovevi Steccare lui Non steccare te stesso L'inneseta ultra Stiamo a perdere Contro un assorbente Porca putt 3 a 0 Io l'ho detto La sfida è Prendere meno di 7 gol E noi ci proveremo Non mi sta convencendo Per niente Jonsen Per niente Non è un trequartista Che Che mi dà qualcosa in più Sapete che il trequartista È uno dei miei ruoli Preferiti Mi piace quando il trequartista Entra molto nell'azione Jonsen si fa vedere poco È poco incisivo Diciamo Oggi è difficile Però insomma Bullo Bullo Bella accelerazione Bullo Riznes Bellissima Non ci credo Rado Non ci credo Ma non ci credo Ci si ammagnati due gol Oggi che non dovevo Mangiarmi E' una stecca Olè Presa 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 Ierto 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 Ma che bella palla Ierto Il Gallo Il Gallo non se lo mangia il gol Il Gallo non se lo mangia il gol Il Gallo non se lo mangia il gol E adesso ci crediamo Mannaggia se non mi fossi mangiato Veramente Quel gol di Thorvaldsen Quello di prima di Rado E bravo Bullo E bravo Bullo Ma porco No 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 Signor direttore Lei oggi veramente Sta arbitrando a senso unico Sta arbitrando a senso unico Veramente Quale fallo è stato fischiato Forse è stata una stecca lontana Andiamo Ma vai a cagare 1,99 contro 1,70 Jorgensen Riscata sta stagione Jorgensen Bravo Facciamo giocare Knudsen va 4 a 1 No no Beriscia La traversa Mamma mia Riscnais Fuori Non c'è nessuno Non c'è nessuno Che fatica Contro questo molde Guarda com'è passato questo Olst grande Pensavo di aver preso il pallone Per me l'ho preso Ragazzi Posso dire che questo secondo me è un intervento Che Definire pulito è Cioè Palla piena Palla piena Poi è lui che mi dà un calcione Palla piena Questo intervento qui è pulitissimo Questo intervento qui è pulitissimo Vergognatevi Bravo Jorgensen La giustizia è fatta L'ho provato Ragazzi Oggi è stata durissima Oggi è stata veramente dura Partitaccia Partitaccia Perdiamo 4 a 1 contro il molde Trasferta pesantissima Trasferta pesantissima Ma Ci hanno letteralmente massacrato Oggi Vabbè Lo sapevamo Non sarà la prima partita che perderemo Anzi anche perché noi abbiamo già perso i due Quindi Volevo dire Non sarà nemmeno l'ultima Però per fortuna che questa visione È sempre bella No mi dispiace andare a rispondere in maniera negativa Perché quando ho accettato questo lavoro Come abbiamo vinto Non Non Mister Mister però Mister Però così ci facevamo prendere in giro Dicevo mi dispiace Dare risposte negative Anche se a volte sono quelle più Più sincere Però È così ragazzi Perché è inutile È inutile stare qui ad abbassare il morale dei ragazzi Tanto le cose non cambierebbero Jorgensen fai cagare Te lo dico io Possibile cambio ruolo Jorgensen È diventato un ala Ha fatto un più uno Jorgensen Ali Cosa mi diventi un ala di destra? Vabbè Un po' meglio Mentre Hansen Mi diventa un trequartista Più due Overall Veramente Veramente Meschini Veramente Veramente Meschini Quindi io Sarei tentatissimo Di cacciarli a calci nel culo Tipo Jorgensen Io cosa ci faccio con te Dai vai là Vai a cagare Facciamo un po' di pulizia Anche questo Jorgensen In cui lo cacciamo Cacciamo anche Ali Ciao Ali A prossima E basta Per il momento Per il momento basta Programma di crescita di Olsen Quali? Chi è? No come programma di crescita? No No Ma come Olsen? No Allora ragazzi Io direi che ci andiamo a giocare In quest'ultima parita Contro l'Amcam Quel Mawa Lì mi spaventa molto Devo essere sincero Quel Mawa lì mi spaventa tantissimo Teniamola a titolare Oggi non faccio cambi Vediamo gli imprevisti Cosa ci danno Credo in te Schiero a titolare Uno tra i tre peggiori Giocatori in rosa Vabbè Poteva andare peggio Poteva andare Ma Allora Uno tra i tre peggiori Giocatori in rosa Vabbè abbiamo Tre cinquanta Hagen Hansen E Berge Non c'è qualcuno più scarso Vero? Hansen titolare qui al posto di Jonsen Abbiamo il nuovo trequartista Tutti Hansen Non ce sto capendo un cazzo Mi è scappato il cazzo Scusate Eeeh Citazione per pochi Andiamo in campo così signori Con Un giovanotto Lì sulla trequarti Chissà Potrà svoltarci la situazione? Non credo Andiamo in campo Sempre sul pezzo Chiaramente Forza FK Lofoten Anche qui ragazzi Stavo guardando la distanza Per la trasferta E' chiaro che In aereo ci si metta molto meno Ma da Da Enningsvair Dalla nostra sede Sono 20 ore di Di macchina Cioè ogni volta che si deve Fare una trasferta Qua se non si piglia l'aereo Porca miseria Porca Oh Oh Niente L'Amcam È una squadra di Amar Che è diciamo Nel sud della Norvegia Perché non siamo in casa nostra? Scusatemi Non eravamo fuori Porca miseria Bravo Hansen Non eravamo fuori casa anche prima Forza Kristiansen Cristianizzalo Cristianizzalo Eh Bravo Ols Larsen Mamma mia ragazzi Questo giocatore qui è fortissimo Bravissimo Hansen 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 Tira 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 Come viene Sandberg Grande parata Occasionissima per il Lofoten Bravo Riznais Bullo La palla Bullo Ma porca miseria Questo gli dobbiamo proprio insegnare le basi Hansen Hansen Tira Un cento Tira Tira Ma cosa aspetti Jertodal Che nel dubbio piglia pure Dai Riznais Io da te mi aspetto Passaggi più precisi No 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 niente Vantaggio Amcam Kirkewald Perdiamo dei bruttissimi palloni Lì sulla difesa E questi ci purgano E questi ci purgano Eh vabbè Come ho fatto a vincere con Lillestrom Non lo so Ma oggi questa non la perdiamo Oggi questa non la perdiamo Bullo Io pensavo fossi decente Jertodal Porca Jertodal Jertodal Cosa facciamo con questi piedini Sì E poi i piedini Avrà il 75 di numero Se li riaddrizziamo un po' Forse è per quello Non riesce a Bravo Hansen Non riesce a gestire Questo numero così grande Ha i piedi ghiacciati Ha i piedi freddi Ci vogliono gli scaldotti Olsen Jertodal È tua questa Bellissima Bellissima Scaldotto Modon Scaldotto Modon Torvalzen Hansen Perché non tirate Ma perché non tirano Ma perché non tirano Cioè In queste leghe Il tiro Non è concepito No Possiamo Bravo Christiansen Bravissimo Bravissimo Dai che ripartiamo Hansen Il movimento Olsen Il movimento Sì Un movimento sexy Un movimento sexy E una mano alla cintura Mannata È il massimo Il massimo di movimento Che possiamo fare La maglia è bella però La maglia è elegante La maglia è elegante Alla fine Alla fine il meno peggio Forse Hansen No Quello che doveva essere L'imprevisto Vai Rizna Dai Niente Gli ho dato la stecca Aia Aia Maua Ma però che Maua Mi tiri così È veramente inaccettabile Che Maua Mi tiri così Maua Ma io pensavo Che quello la fosse Un nostro giocatore Era l'arbitro Ma io Ma mi potrei mettere In questa difficoltà cromatica Da siamo scarsi Questa non la perdiamo Ho detto Ho detto che questa non la perdiamo Riznais Bellissima per Hansen Sul primo Hansen Sul primo Hansen Sul primo Hansen Piga sto palè E lasciami stare Prendi sto pallone Bravo Hansen 2 a 1 Io ho detto che questa non la perdiamo E questa non la perdiamo Bravo Christiansen Se è andata a prendere Hansen Il gallo Il gallo Il gallo Niente il gallo è talmente gobbo Che non ha capito neanche dove si trovava Riznais Bullo Olsen Ve l'avevo detto Olsen Chicchi ricchi Di fantasia Olsen Il gallo Ce l'abbiamo fatta L'abbiamo ripresa Sì Sì Non si molla Non si molla Sangue freddo ragazzi Sangue freddo Non possiamo fare altrimenti Tra l'altro D'altronde Sangue freddo per forza Mi verrebbe da dire Allora cambio Mi stai deludendo Mi stai deludendo Riznais Mi stai deludendo Andiamo con Rado Vai Rado Vai Rado Vai Rado Olsen 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 Sandberg Non c'è credo Forza ragazzi Ultimi 20 minuti di fuoco Possiamo perderla Come possiamo vincere Bravo Larsen Possiamo perderla Come possiamo vincere Ma io non la voglio perdere Hansen E' buona E' buona E' buona E' buona Calo Calo Oh la peppa Oh la peppa Me l'ha ansteccato Me l'ha ansteccato Era in aria Questo è rigore Sono folle Gli dai il rosso Ma come fai a dargli il giallo Ma come puoi dargli il giallo Come puoi dargli il giallo Dentro Jonsen Dentro Jonsen Magari è lui il rigorista Non lo so Chi lo batte Chi lo batte Chi lo batte Calo Rigore 67 Oh Cristo santo Vabbè Vabbè Vai vai Olsen Tranquillo Olsen 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 Guarda Mannequin challenge Si prende gioco Nel portiere dell'AMCAM All'ottantesimo Siamo avanti All'ottantesimo Siamo avanti Io ve l'avevo detto Che questa partita Non l'avrei perso Jonsen Oh no Christensen mio Ma perché Ma io cosa ho fatto Di male Christensen Ma ti pare Una roba normale Questa Ma ti pare Una roba normale Christensen Santo cielo Ma santo cielo Dai Ma santo cielo Hansen Contro Kirkewald Hansen Hansen Succa Kirkewald Succa 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 Non c'è credo Non c'è credo Non c'è credo Non c'è credo Torvalsen 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 Jonsen Apoteosi Apoteosi Lofoten 4 a 2 Dopo un rigore parato Si chiude Si chiude Si chiude Si chiude La partita Si chiude La partita Si chiude La partita Signori Fine Chiusa Dopo un rigore parato Ripartenza Metti dentro il rincoglionito Ripartenza E gol Ripartenza E gol Non c'è credo Assis di Olsen Che si è preso la scena Apoteosi Decisamente un episodio carino Decisamente un episodio carino Si queste sono le emozioni Che i nostri nordici Ci possono regalare Finisce qua Finisce qua Vinciamo 2 a 4 In casa dell'Amcam Una partita Storica Una partita E se Non so neanche come definirla Una partita clamorosa Perché veramente poteva finire in pareggio Eravamo sotto C'è qualcosa di assurdo Veramente Ma io volevo detto Io me lo sentivo Io me lo sentivo Che sarebbe andata alla grande Facciamoci St'intervista post partita Anche se non serve Alzare il morale Che spettacolo Che spettacolo Che spettacolo Olsen è stato il protagonista Assoluto di questa vittoria Con la doppietta Come giudica la sua prova È stato fantastico Straordinario Straordinario Ma che rivincita Che è la prima volta Ma che cosa sta dicendo Signorina A questo punto Offerta per Ansen La cremonese No Non è arrivato il momento Non è arrivato ancora il momento Però Ansen Credo lo perderemo Molto presto Sinceramente Classifica Classifica Siamo decimi Per il momento Sei punti Due vittorie Due sconfitte Molto molto bene Abbiamo rubato 3-4 Giocatori al volerenga Poveracci Quindi Sono rimasti Un po' indietro Ragazzi Io spero Sinceramente Voi vi siete divertendo L'episodio domenicale Penso avrà una parità in più Forse il martedì E il giovedì A ore 13.30 Vi lascio un episodio Comunque Bello pregno Perché qualche azione in più Ve la lascio Ma Solo tre partite Fatemi sapere cosa preferite Mi raccomando Sotto nei commenti Qualsiasi consiglio Per migliorare La serie È ben accetto E finalmente Finalmente Il gallo Olsen Si è preso La scena Noi ci vediamo Nel prossimo video Un saluto da me Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti